Il faro che illumina il Candiano in via Dall'Aggio è andato completamente distrutto da un incendio nel pomeriggio dell'1 maggio. L'allarme è scattato intorno alle 18.30. I vigili del fuoco, arrivati sul posto dopo diverse chiamate da parte dei cittadini, hanno spento le fiamme con l'ausilio di due mezzi operativi. Non è chiaro cosa abbia generato l'incendio. Dopo che la situazione è tornata alla normalità, sono iniziate le verifiche di quanto accaduto. Le indagini sono a carico dei pompieri e della polizia di Ravenna intervenuta sul posto.